Lazio Calcetto-Olympus, sfida tra Papa Vili e Apolista. La nuova prima in classifica Lazio Calcetto ospita la vecchia primatista Olympus per un match che davvero ne promette delle belle. La Lazio giocherà nel Fortino Palamunicipio, dove i ragazzi di Zannino e De Bonis, tra campionato e Coppa, non hanno ancora perso punti. I bianco-celesti non sono comunque al meglio. Massimo, Rossetti, Costi e Alfonso li ha ciaccati. Sarà una partita di alta classifica. Noi cercheremo di fare del nostro meglio. Loro, diciamo, sono abbastanza favoriti perché hanno una rosa molto lunga. Sappiamo che giochiamo in casa e cercheremo di sfruttare il fattore campo. All'Olympus, dopo quella di sabato scorso, servirà un'altra prova di grande cuore. Cocco deve fare a meno di due importantissimi titolari, come Filippo Cellitti e Lorenzo Margaglio, entrambi espulsi nella partita contro il Lido di Ostia. La squadra nostra è ampia e chiunque gioca non abbassa il livello della squadra. Noi andiamo lì per prendere i tre punti. Abbiamo preparato la partita, il mister la sta preparando benissimo. Questi ragazzi in crescita, poi in settimana, hanno gestirato cavalli e parecchie volte è un grande giocatore. Gli Olimpi hanno tutta l'intenzione di non far scappare la Lazio, visto che il Ciampino, suo esecutore in Coppa, è tornato alla carica in classifica. No, 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 you've got that, that crazy feeling.